Una vittoria per continuare a sperare nel primo posto. Era questo il mantra principale del football club Messina. Vittoria che è arrivata, anche la CR tuttavia ha ottenuto un importantissimo successo sul terreno difficile del Paternò. Oggi una giornata piovosissima qui a Messina. Questa partita sicuramente ne ha risentito. Tuttavia il football club ha dato ancora dimostrazione di essere un grande gruppo che riesce a vincere. A parte qualche distrazione difensiva che ha portato alla firma dell'1-1 da parte del giocatore del Biancavilla. Ma il solito cicciolodi è il giocatore in più, l'uomo in più di questo Messina. Che sembra davvero non riesce, non riesca a fare a meno del suo numero 21. Grande prestazione oggi anche del giovane Arena che dà l'ennesima dimostrazione di essere un ottimo elemento amalgamato con il gruppo. Si aspetta la prossima partita per trarre ancora un bilancio di questa stagione comunque positiva per il football club. Nella speranza comunque che per la compagine di mister Costantino che lì davanti la CR possa rallentare la sua corsa folle al primato in classe 1. Grazie a tutti.